Giorgio Pomponi, come è nata l'idea di scrivere un libro sul basket abruzzese? Un'iniziativa che mancava probabilmente a questo sport? Sì, grazie innanzitutto per l'idea, perché ritengo che fare una guida del basket è un'idea fino a un certo punto. Mancava un vademecum della pallacanestro, è stato fatto raccogliendo tutto quello che è la pallacanestro in Abruzzo, dalla Silver, dalla 2 Silver fino alla promozione, passando per le giovanili, per le donne e per i basket in carrozzina. Quindi sì, idea, però nel 1939 già esisteva la manacola e il stato del calcio, quindi probabilmente ci siamo messi al passo e quindi abbiamo cercato di sviluppare quello che era già stato fatto in passato, soprattutto oggi, che tornare un po' al cartaceo fa bene dopo tanto internet. Noi siamo molto soddisfatti di questa iniziativa perché per la prima volta l'Abruzzo ha il suo libro che fondamentalmente per me rimane sempre e rimarrà una memoria di tutto quello che il nostro basket riesce a esprimere oggi e che vede appunto in questa pubblicazione una serie innumerevole di ragazzi, di senior, di giovani, una serie innumerevole di personaggi che andranno poi magari ad essere un giorno dei campioni, per cui, ripeto, è fondamentalmente un momento, un ricordo, un qualcosa, oltre a quello che può essere il presente da consultare per tutto quello che riguarda i campionati in questo momento, ma è anche un ricordo per quello che potrà essere poi il futuro di tutte queste persone che sono elencate, perché veramente sono elencati tutti, dai più piccoli, dai bambini di 13 anni fino a quelli che giocano in Serie A.